buongiorno non smette di stupirci la ex ministro il safornero in sala torino per il film sugli esodati nei cinema dal 9 novembre il film denuncia l'esodo tratto da una storia realmente accaduta a torino l'ex ministro del lavoro il safornero ha passato una serata al cinema in compagnia degli esodati per uno degli incontri pubblici tra lei alcuni di loro visibilmente emozionata la fornero ha spiegato le sue ragioni prima di lasciare la sala la nostra eroina ha dichiarato mai più la ministro ok vabbè ci sentiamo alla prossima non dimenticate di commentare i miei video con i peggiori insulti che riuscita ad immaginare ciao iscriviti comenta e clicca mi piace altrimenti ti buco le gomme dell'automobile ciao